L'appassionato antiquario Oscar Michelotti ha donato oggi al sindaco di Arco e quindi alla comunità una bicicletta storica risalente al 1917. È una di quelle utilizzate dai bersaglieri per entrare a Trento alla fine del primo conflitto mondiale. Qual è la storia di questa bicicletta? Questa bicicletta qua è di un bersagliere che è entrato in Trento nel 1918, il 3 novembre. Poi dopo quello che so io l'ha comprata uno che ha fatto il bersagliere e l'hanno venduta, è stata ritrovata giù a Brescia nel recupero, è stata comprata e io l'ho riscattata subito come l'ho vista. Allora un bel dono per la città di Arco oggi? Sicuramente Oscar che è sempre stato in questa comunità, una bella persona, personalità che si è speso e che comunque del passato si è sempre occupato della sua partecipazione a numerosi mercatini e iniziative di questo tipo. Chiaro che oggi decide di regalare a tutta la nostra comunità una bici che fa parte della storia, che ha parlato di 1918, poi con alcune modifiche che sono intervenute negli anni successivi. Però è un bel dono per questa comunità avere una bicicletta che supera il quasi, a breve arriverà al secolo di età. Quindi è un dono a questa comunità che è interessante, ma quello che io colgo è soprattutto, oltre a voler mettere a disposizione, è voler donare agli altri e donare alla propria comunità. Questo è bello, l'ho visto in questi giorni con le altre iniziative, voglio ricordare i balconi fioriti, oggi un altro cittadino fa un qualcosa per gli altri, porta qua una bicicletta che ha un valore e la dona a questo comune che in realtà la dona a tutta la città di Arco. E questo credo che gli vada dato merito a Oscar di dare questo insegnamento che vale la pena spendersi per gli altri. Quindi insomma, io ho grande soddisfazione e quindi ringrazio anche voi di Telegarda che siete sempre un posto di tutti gli eventi. E cos'è che l'ha spinta a fare questo dono all'amministrazione comunale? Perché a me non mi serve più la casa, perché tanto io non sono capace di andare in bicicletta e non essendo capace di andare in bicicletta mi scoccia anche a tenere la casa lì. Per che cosa? Il museo io non ho più perché ho cambiato casa, sono rimasto senza casa e di conseguenza ho tutto per forza dalla via. E la speranza cos'è? Di vederla magari esposta al museo di Riva? No, no, io ho la speranza di vederla esposta sempre lì, nell'ufficio del sindaco.